Ciao a tutti ragazzi, bentornati su di nuovo qui con Alessio a giocare a Satisfactory Abbiamo appena finito la nostra mini fabbrica dell'acciaio e come vedete abbiamo già accumulato un bel po' dei materiali Abbiamo anche le piastre, qui le possiamo prendere un po' dalla fabbrica così al volo Perché non ho collegato la scatola, perché poi aspetta un attimo che si accumulino un pochetto E adesso siamo in grado di fare in asse trasportatori livello 3 Sto riadattando praticamente tutto il percorso del rame, anzi del rame, del carbone L'unica roba che non c'è sta è proprio il rame Sto riadattando tutto il percorso del carbone ad andare avanti con nastri livello 3 Insomma perché queste fornaci richiedono 240 in tutto Quindi 240, meno 40 e non ci siamo ancora Meno 40 non ci siamo ancora, meno 40 ci siamo Quindi servono, dopo il collegamento della terza fornace posso smettere di mettere i nastri trasporti livello 3 Quindi ragazzi dopo la terza fucina quindi posso fermarmi, è un po' sicuro di sapere lo nome di La prima l'abbiamo collegata, la seconda l'abbiamo collegata Qui c'è la terza, a posto, a posto Qui da adesso in poi già va tutto bene La stessa cosa lo devo fare con il ferro Quando le miniere saliranno del livello mi manderanno ognuna 120 E qui mi devono mandare avanti 240 E la prima la colleghiamo 200 e la seconda la colleghiamo 160 e colleghiamo questa Quindi da questo punto in poi basta livello 2 Ok? Perfetto E qui basta livello 1 Perfetto Abbiamo attaccato tutto quello che ci serve Questa qua se non sbaglio rimarrà così Ok? E' a livello 2? Sì Sì, sì, perfetto Quindi anche questa rimarrà così Quindi in realtà abbiamo già potenziato tutto quello che dobbiamo potenziare Mo' devo semplicemente andare a vedere l'output Perché pure qua fa 240 Quindi dopo le prime 3 Ok? Dopo le prime 3 Che si collegano da qui Deve essere tutto livello 3 Ok? Bene, adesso si sono uniti tutti i lingotti d'acciaio Da questo punto in poi cominciamo a scaricarli Allora qui ne uso 30 Nella prima fabbrica dei tubi Quindi passiamo da 240 A meno 30 A meno 30 A 180 Quindi ancora dopo i due fabbrica dei tubi Abbiamo bisogno Dei 180 minerali Mo' 180 Diventano Qui entrano 60 E qui hanno avanti 120 Che vanno divisi tra di loro qui Qui addirittura basta a livello 1 In realtà Che nastro è questo? A livello 1 Ok, apposto Quindi qui già va bene così Perfetto Quindi fino a qua serve a livello 3 Qui un pezzetto a livello 2 Per tutti gli altri a livello 1 E l'output L'output ragazzi 15, 15 e 15 Qua basta tutto a livello 1 Credo dove fa tutto a livello 1 Perfetto Perfetto Qui basta Livello 2 Da sto punto in poi E ce l'abbiamo Ok Finito Ok Adesso posso cominciare a cogliere le travi Per andare a fare il prossimo livello Che è fondamentale Cioè La prossima ricerca tecnologica Che dobbiamo fare È quella che ci sbloccherà le miniere Livello 2 Quindi io aspetto un attimo De far Ma penso almeno un 200 travi E torno alla base Molto bene Produzione di acciaio avanzato ragazzi Ci mettiamo subito le cose che abbiamo Ovviamente mi mancano i delai modulari Ma voi neanche ve ne accorgerete E tac Eccoli qui Mamma mia Che un mago Molto bene Allora Con questo C'è arrivata una cosa molto importante La trivella a livello 2 Allora la trivella a livello 2 Produce il doppio De quella a livello 1 Come vedete Infatti Non a caso De chiede due Miniere portatili Però vabbè A parte questa cosa C'è anche bisogno Di un componente in più Quindi purtroppo Mi è venuta in mente Un'idea molto brutta Ma ve la dirò tra poco Ok Intanto vi dirò Cos'è questo componente Sono le travi De cemento armato Le travi de cemento armato Un pochino Le possiamo fare a mano Se fanno con Cemento E travi d'acciaio Quindi se Se siete svegli Già avete capito Cosa vorrò fare Però insomma Mo ne faccio Qualcuna a mano Per andare a potenziare Almeno una Miniera fondamentale Ok In realtà È da rivederle un po' tutte Quindi me ne sparo Tipo una cinquantina De sto a fare Così me posso sparare Tutte le miniere Livello 2 Eccolo qua 50 preciso Quindi mo con 50 Di questo Andiamo a fare Un piccolo banco Da lavoro Qui Anzi No un'officina Che in realtà Già stava alla piede Insomma Ormai sono venuto qua A farla Abbattiamo questa E Ci mettiamo Cancelliamo un attimo Questo E ci cominciamo a mettere Le miniere nuove Non è quella Quella fondamentale Però voglio potenziarle tutte Ok Quindi produzione Trivella Livello 2 Questa ragazzi Come vedete Fa 60 Non c'è bisogno Di far cose strane Il nastro trasportatore Bastava a livello 1 Ci mettiamo La corrente E non c'è più Nessun lumacone Ok Quindi ho risparmiato Il lumacone Allora Questa cosa Posso farla Aspetta Fammi ci rimette Il calcare Qui dentro Ok Questa cosa Posso farla Ad ogni Miniera Su cui ho messo Il lumacone Quindi non c'è bisogno Di portare Ste trivelle A livello 2 Qui inutilmente Laggiù c'è Un'altra trivella Su cui ci ho messo I lumaconi Che è Quest'altra Del calcare Ragazzi Ci stanno pure Ste 2 Che dovrebbero essere Entrambe a livello 2 E quella qua giù Ok Che è del rame Ok Tutte quante L'ho messe Con una doppia coppia De lumaconi Insomma Quindi in realtà Non Non dovrebbero essere così Però Tutto ciò Ci serve A parte Per ottimizzare La fabbrica Dell'acciaio C'è una miniera Che deve essere Assolutamente Raddoppiata Adesso Andiamo a vedere Eccola qua Ragazzi Quella più importante De tutti Quella del carbone Ragazzi La nostra energia elettrica Si regge tutta Su sta miniera qua E ormai Non regge più Come vedete Consumo massimo 6,50 Allora Noi che facciamo Noi abbiamo Accumulato Un bel po' Dell'umaconi In saccoccia Che andremo Ugualmente A risparmiare Prendendo anche Quelle altre Miniere Che vi ho fatto vedere Ma adesso Toglieremo Questa miniera Livello 1 Qui Ci metteremo Una miniera Livello 2 Di corsa E adesso Su un nodo puro Qui facciamo Ben 240 Guarda Io giusto Per farla Accumulare Per bene No vabbè che tanto Questo fa uscire 120 Allora Al momento ragazzi Io con qui Non ho fatto Alcun cambiamento Perché questo ragazzo Porta 120 Al massimo Ma Se io adesso Con le travi Mi sostituisco Tutto questo Mastro trasportatore A livello 2 Lo faccio passare A livello 3 Posso andare Dalla mia Centrale energetica A carbone E invece Di farla Da 8 centrali La posso fare Da 16 Ok O la faccio Da 16 Allungando La dismisura E mettendoci Altri 3 Strattori d'acqua Che se non sbaglio Non c'entravano Oppure Molto semplicemente In questi Generatori Ci metto 2 lumagoni Ok Quindi i lumagoni Li spostiamo Dalle miniere Alle centrali a carbone Molto più semplice Direi Fatto in questo modo In tutto Ci serviranno 16 lumagoni Ragazzi Sembra fatto apposta 16 lumagoni Sono esattamente 10 Che abbiamo in saccoccia Più i 3 Delle miniere Che devo sostituire Ok Quindi 16 lumagoni Precis Noi prendiamo La nostra centrale a carbone Da 8 La facciamo diventare Potenza doppia Quindi è come se ci saranno 16 Generatori a carbone Qui invece Dei 600 Farà 1.2 Potremo campare Per molto più tempo In questa situazione Ok Quindi però L'unica cosa Che adesso Ne serve un fottio Dei travi Ok Quindi andiamo A prendere le travi Andiamo a fare Sta conversione De tutto Il tracciato In acciaio Allora Ho già messo Le miniere Livello 2 Un po' Dappertutto Ok Le ho messe Già qua In tutta questa zona Insomma Che mi serve Per fare Le fucine Ok Finalmente Mi sono ricordato Il nome Almeno Come vedete Già per esempio Il carbone Si è accumulato Ok Sta andando lento Mentre tutto il resto Sta pompando Sulle travi Ho collegato Solo le travi Alla scatola Almeno Sulla parte Dei tubi È tutto fermo E i materiali Mi si accumulano Ok Allora Dall'altra parte Ho già Intanto Ho già accumulato Un bel po' De travi Dall'altra parte Ho già fatto Mezzo percorso Dalla Miera di carbone Alla centrale Andiamo subito Lì Faccio un piccolo taglio Così non dovete Vedere io Che volo Ho messo Un pratico segno Con una fondazione Così mi ricordavo Un dostavo Perfetto Allora Ritorniamo a barra 1 Allora Come vedete Fino a qui È tutto livello 3 Posso continuare Alla fine Ci vuole molto poco A potenziare Le belte Ragazzi Ok Allora Bene L'importante È che arriviamo Almeno Verso Dove sta Qualche Centrale al carbone Ok Quindi fino a qui È arrivato Il nostro carbone Livello 3 Quindi arriviamo 240 Ok Allora Prima di attaccare Direttamente le cose Le lumache Qui Non scordiamoci Che in realtà Questi non funzionano Con solo il carbone Ma ci vuole anche L'acqua Quindi Qua ci vorranno Due lumaconi Ah in realtà In realtà Non andrà Attenzione Attenzione Non andrà qui Non andrà bene Così Che 240 Più 60 Più 240 E qua Fa due tubi Da 300 Quindi abbiamo 240 Per 2 Più 120 E stiamo portando Esattamente 600 Allora Faccio salire Tre tubi Quindi devo fare Una piccola modifica Faccio salire Tre tubi Non è difficile Questa modifica Ok Quindi guarda Facciamo così No che voglio raddoppiare La potenza Della fabbrica Ok ma Se ciò Se sono limitato Dal tubo Livello 1 Sto un picciato Quindi facciamo così Facciamo una scala Per pagliacci Per salire Qui Ok Allora guarda Facciamo così Giunzione Per condutture E certo Che se stacco Vabbè Niente Ehm Trochiamo Di farlo Il più velocemente Possibile Ok Foro da pavimento Forse è troppo lontano Lo vedremo subito Allora Allora Da un risultato A verticale Bene Allora Il terzo tubo Dell'acqua Deve arriva qua Ok Quindi Li facciamo Andare direttamente Tutti e tre Indipendenti Sì però Secondo me Ma rischio Che succeda qualcosa De strano Vediamo Fannoci un attimo Pensare Intanto posso tranquillamente Pensare A già come Deve stare Sto coso Manca il rotore Ok ho messo la pompa E visto che adesso ce li abbiamo Cominciamo a sfruttare sti cosi Da mettere sul muro Questi sono come i pali Da la luce Solo che li puoi mettere Pure in zone verticali Quindi Facciamoli un attimo Sfruttiamoli un attimo Bene perché Qualche collegamento Elettrico pulito Così almeno abbiamo La possibilità Di far tutto pulito Preciso Come ci piace a noi Quindi qui Che è a metà No Quindi qui Mettiamo il cavo Dattamente qui Li colleghiamo Tra di loro Ok Quindi qui passerebbe La corrente Appena Diciamo La attacchiamo Per bene Oh allora Adesso abbiamo Un problema Da risolvere Allora Se io mettessi Le due lumacone Anche qui Avrei 240 Per 3 Che fa 720 Ed è più di 2 tubi Ogni tubo Porta 300 Ok Vabbè Ma è semplice Allora facciamo Passare 3 tubi Ok I 3 tubi Saranno quelli Che Appunto Saranno Uno qua Uno qua Uno qua Esattamente come abbiamo Già collegato Questo collegamento Qui fa veramente Schifo Perché questa cosa È sbagliata E questa cosa È messa malissimo Ok Fa veramente Cagare Lo che avevo fatto Ok Ok Molto meglio L'ho sistemato Benissimo Ok Allora Il problema È che sicuramente A piano di sopra Lui proverà A fare qualche magia Ok Quindi adesso Io vorrei fare Un piccolo schema Per capire come Devono stare I tubi Qua sopra Allora Allora ragazzi Una centrale a carbone Con doppia Con doppia lumaca Ti consuma Però da sti due Però da sti due qua Lo sai io che te faccio Te faccio E qui in mezzo Ci mettiamo Due pompe Stacchiamo la corrente Stacchiamo la corrente La base Tanto Questo cavo È il cavo portante Di tutta l'energia Della base Ragazzi Allora Da questo cavo Tubo centrale Andiamo avanti Se io faccio così Che cosa ottengo? Ottengo il solito discorso Che abbiamo sempre fatto Cioè che l'acqua Non torna indietro Ok? Perché l'acqua Tende a restagnare A fare avanti e dietro Se io faccio questa cosa qui Dalla pompa centrale Spero che me la separo Correttamente l'acqua Cioè 50-50 Con quella a destra E quella a sinistra Non c'è il bisogno Di collegarli alla corrente Ragazzi Però insomma Che cosa evito? Evito che Il tubo che va a destra Che sarà dedicato A solo questo estrattore d'acqua Non mi manda L'acqua in tutto il sistema Diciamo tra virgolette Attappandomi il tubo De sinistra E non riesce a mandare la roba Ma funzionando in maniera Non efficace Perché Non basta l'acqua Di tutti e otto Allora io che cosa faccio? Faccio che Questo collegamento d'acqua Al massimo Arriva fino a praticamente Metà del sistema L'ho fatto qui apposta Perché Qui ce ne stanno 4 E qui ce ne stanno 4 Quindi Il tubo di sinistra Interviene sui primi 4 Il tubo di destra Interviene sui secondi 4 Quello centrale Un po' a sinistra E un po' a destra Ok? Quindi Direi che è arrivato il momento Di Aggiustare un attimo Come stanno messi Questi cosi elettrici Che fanno veramente cagare Oh molto bene Guardate qui È venuto molto più preciso Di prima I cavi elettrici Sono decisamente Discutibili Devo dire la verità Quasi quasi Li farei in un altro modo Lo sai che ti dico? Quasi quasi Li farei passare di lato Che non si possono vedere Che fanno veramente schifo Cagola madonna Li facciamo passare di lato Ed eccoli qua Cancelliamo questo A meno che non stai molto attento Manco dei raccordi Do basta Nei nostri cavi E questi dei generatori O degli estrattori Lasciamo là Allora Aspetto per me si riempie Un'altra volta Tutto il sistema d'acqua Qui ovviamente Mi sono dimenticato Di riattaccare La corrente alle pompe Però fortunatamente C'era quella centrale Che andava a cannone Ok Saliamo al piano di sopra E vediamo qual è la situazione Ok la portata del flusso C'è Quindi l'acqua sta entrando Solo che dobbiamo aspettare Che si riempia del tutto Ok Quindi se vedete Era mezza finita Ragazzi Qui come vedete Sta Oddio Non è che stia aumentando Particolarmente Qui è pieno Qui sta A aumentare Forse perché Era quasi finita L'acqua Dentro al generatore Fammi vedere Ok Qui si è Si è riempito Quindi Si stanno Praticamente Riempendo tutti i tubi Ok No perché l'acqua Purtroppo È veramente Una cosa fastidiosa Al Satisfactory Ragazzi Preferisco Perderci Un po' Di tempo Per controllare Funzioni Tutto Rispetto a Poi trovarmi Tutto Un picciato Dopo Ok Si è riempito Tutto Perfetto Fammi controllare Se le trettaniche Se sono riempite Ok Questa sta andando A cannone Velocità di riempimento 300 Anche se non è così Se vede Che sta a scaricare Il deposito Che si è accumulato Qua dentro Ma in realtà 300 Non può essere Perché questo Produce 2,40 D'acqua Quindi come vedete Ha completamente Finito la riserva Aspetto che finisca Del tutto E Intanto Posso andare A mettere Almeno Alle prime Due Centrali a carbone Posso mettere I lumagoni Ok Quindi Andiamo Alle prime due Come servono L'altri Non avevo contato I lumagoni Per gli estrattori D'acqua Quindi in realtà Ci voleva Qualche lumagone In più Se voi avete trovato Uno specchio D'acqua Più largo Ragazzi Semplicemente Potete Mettere altri Tre estrattori D'acqua E collegarle A tre nuove Centrali a carboni Ok Quindi Non c'è bisogno Di fare sto casino Che ho fatto io Quindi Ecco qui Però Almeno Ragazzi Almeno abbiamo Aumentato La generazione D'energia Senza dover Rifare troppo L'edificio Giusto Dovuto Aggiustare Qualche Tutbo Vediamo un attimo Adesso Stiamo a 7,50 Ragazzi Che già bastava Per fare Tutto quello Che ci serviva Nella base Quindi io Direi di fare Così E Così Quindi La nostra Base È tutta Operativa Di nuovo Ha deciso Di staccarsi Il fusibile Anche se non è vero Visto che l'energia Ce l'avevo Ok Come vedete Consumo massimo 7,90 No in realtà Ancora non basta Ragazzi Vabbè Ma Nessuno importa Perché adesso Andiamo a prendere Altri lumaconi Sostituendo Le tre miniere Che mi rimangono Da sostituire Ho già preparato I tre Anzi I 20 Ok Mi mancano 10 calcestruzzo Armato Quindi lo facciamo Solo alle miniere Alle miniere qui Due Migneroni Che è successo qua Oh regà È risparmato il minerale Per questo è in bug Questo è in bug Ragazzi Questo è impossibile L'avevo torto Questo è in bug Ragazzi Vabbè Comunque Trivella a livello 2 Adesso questo ci fa Addirittura 60 Con dritto Già viene tutto preciso La stessa cosa Deve farci anche Questo ragazzo Niente Niente Ricompare Il minerale di ferro Dal nulla Gli è preso così Il cartone Molto bene Ci mettiamo Questo dentro Così almeno scarico Un po' De mondezza E collego lì Ok Va bene Quindi adesso abbiamo 120 ferro Che esce da qui Che ci alimenta Correttamente La fabbrichina Che abbiamo fatto Dei telai modulari L'unica cosa È che cancello Un attimo Questo In modo che Così Mese poi Riaccumula davvero Tutto quanto E mo vado a mettere Sti altri 4 lumaconi Che ho rimediato Con sto processo Dentro alla centrale A carcone In tutto Me ne mancheranno 2 4 6 8 8 Lumaconi Per le ultime 4 E posso Ottenere un altro Miglioramento Insomma Dell'energia elettrica Senza dove diventa Scemo Quindi ragazzi I lumaconi Per ora Li abbiamo messi Soltanto A parte qualche Fabbrina Qui proprio L'ercia Per sbrigarmi Mi pare Paro De cose Vedi Quelle con le sbarnette Blu là In realtà I lumaconi Nella nostra base Adesso stanno Solo dentro Le centrali a carbone Che secondo me Sono un ottimo modo Per sfruttare Le lumache Che trovi all'inizio Quindi le mettiamo qui Tiè Anche questo Ci passa Da 75 A 150 Raddoppia proprio Potete mettere Anche la terza Lumaca Ragazzi Se proprio volete Comprimer Più possibile Però insomma Ragazzi Si vola Allora Al momento Come stiamo messi Andiamo a vedere Sto coso centrale Ragazzi Adesso stiamo messi Una produzione Di 900 Ok Che è più del consumo massimo Quindi Ci siamo Stiamo da paura Quindi Vediamo un attimo Se c'ho qualcosa Da buttare Ok Si Stiamo messi da paura Quindi I prossimi 4 lumaconi Che troviamo Sappiamo dove metterli E abbiamo finalmente Risolto i nostri problemi Con l'elettricità Non dobbiamo più temere Per l'utilizzo De questa robaccia Per sicurezza Però lascio sempre Pronta A intervenire Quindi Prendiamo un'altra volta La biomassa E la rimettiamo qui Me ne tengo giusto Un po' qualcuna Per eventualmente Fa qualche taglio De albero Mi manca L'unica L'ultima cosa Da sostituire Vediamo se c'ho I materiali Per fare L'ultimi Due cosi Per fare L'ultimi Dieci C'è Sto De cemento Armato Bene Ecco qui Anche la produzione Del rame Ragazzi L'abbiamo migliorata Attacchiamoci Un attimo Questo Mettiamo La corrente La corrente Dove l'avevo attaccata Ragazzi Non muovi Ah qui Ok Quindi qui Attacchiamo La corrente A questo qui Adesso Esce 120 rame Mettiamo Il rame Che ho accumulato Qui Lo rimettiamo qua A posto Ok Ottimo Ottimo Guarda Giusto per farlo Accumulato Del tutto E vabbè Tanto No vabbè Tanto questo È livello 2 Avrei potuto mettere Un lumacone Per mandarlo Un po' più veloce Inizialmente Ma per fargli recuperare Diciamo Sto pezzo vuoto De produzione Ma Chi se ne frega Ragazzi Andiamo a mettere Sti ultimi due Lumaconi a posto E poi vi dico Qual è Il mio piano malvagio Per automatizzare Le travi De cemento armato Ed è proprio qua Ragazzi Siamo arrivati Alla bellezza Di 975 Fatto con la centrale a carbone Poi con l'aggiunta Dell'altro 2,70 A stare quasi A 1 gigawatt 2,50 Ci siamo quasi Allora ragazzi Cosa abbiamo costruito Nell'ultima puntata Abbiamo costruito Una fabbrica Di acciaio Torniamo subito Lì Allora Ecco la fabbrica Di acciaio Una fabbrica Particolarmente Fortunata Perché vicino a lei C'ha La Fabbrica Di calcare Ok Eccola qui Abbiamo una Bella Minierina Che ci fa pure Qualche Un po' De carcestruzzo Allora Il nostro ragazzo Il nostro ragazzo Qui Il nostro ragazzo Qui Ha bisogno De calcestruzzo E travi Ok Però Le travi Che facciamo qui Dici Che fai Prendi un po' De travi No Ci attacchi In assemblatore Travi Assemblatore Più Calcestruzzo Che c'hai qua E hai fatto Travi De cemento armato Eh ma no Perché noi Già ne facciamo Poche ragazzi Tutto sto tempo Abbiamo fatte Solo mille C'è sempre una stecca Per fare le belt Livello 3 Ragazzi La produzione Delle travi D'acciaio Deve essere Elevatissima Ok Quindi Se metà Delle travi D'acciaio Me le bevo Per fare Le travi Di cemento armato Ho perso Ok Andiamo a vedere Un attimo qui Io adesso Dorei fare questo Ti si beve 18 travi Al minuto 45 Che faccio adesso Meno 18 Mi rimane manco 27 Potrei Ok Potrei Se voi Non volete Fare di più Insomma potete Tranquillamente Attaccare uno Desti assemblatori A sta roba qui Che abbiamo fatto qua A una delle fabbriche Stallate Uno splitter E ottenete anche 6 travi De cemento armato Al minuto Che sono un materiale Fastidioso Che ti serve sempre Da adesso in poi Io purtroppo Ho trovato Una ricetta Ok Ho trovato Una ricetta Alternativa Purtroppo Per fortuna Che è Il lingotto D'acciaio Massiccio Che in momento Del 50% L'ha resa D'acciaio Quindi Che cosa farò Nella prossima puntata Abbatto Tutta Sta Fabrica Tutta Abbatto Per Metterci Una fabbrica Molto Più potente Che mi fa Travi D'acciaio E Calcestruzzo Armato Fatto Bene Ok Quindi Potenzialmente Potrei andare Anche Al 50% In più De Output Ottenuto Se volete Fare Lo stesso Mio progetto O cercate Assai Hardisk Finché Non vi Esce La mia Stessa Ricetta Alternativa Ed è uscita Qui Quello Che vedremo Nella prossima Puntata Oppure Semplicemente Visto Che queste Belt Livello 3 Portano 2,70 Potete Mettere Un lumacone Qua Almeno 30 E Beccate In più Oppure Semplicemente Fate passare Su due Belte Separate Questo Ferro Qui Il Carbone Va 2,70 E potete In qualche Modo Ottenere Una roba Simile A quello Che otterrò Io Ok Quindi Io con Questo Vi saluto Nella prossima Puntata Ristrutturiamo Questa Fabre Come L'abbiamo Fatta Già Dobbiamo Toia Ragazzi Quindi Ne vedremo Delle belle Io con Questo Vi saluto E alla Prossima